salve ragazzi benvenuti al canale oggi ragazzi di nuovo qui sulla splendida mappa le risaie del nord ovviamente su farming simulator 19 oggi di nuovo in compagnia del nostro buon collega steno 84 che salutiamo e diamo il bentornato buongiorno simulator buongiorno a tutti ragazzi e grazie per l'invito qui sulle risaie del nord dopo non so quanti secoli e secoli ormai è oramai non ci speravo più è che tu arrivassi in questa mappa e avevo le mani nei capelli qualcuno nei commenti mi ha detto simu io con tutti questi operai sarei impazzito e io ho detto quasi quasi ci arrivo anch'io meno vale invece che oggi c'è di nuovo il collega che ci darà una mano vi ricordo raga che negli scorsi episodi avevamo iniziato le varie raccolte sui nostri campi off camera ho fatto un bel po di cosine ovvero ho terminato la raccolta del della cultura e della e della paglia sul campo 1 ho raccolto la paglia sul campo 2 ho iniziato la raccolta della cultura e della paglia sul campo 3 e anche sul campo 5 sul campo 5 la raccolta solo della cultura dobbiamo ancora iniziare quella della paglia altre robe non le ho fatte off camera vabbè come avete visto mi sono portato già parecchio avanti allora lei collega se vuole andare un attimino a controllare i mezzi che vedo che qualcuno è da scaricare tanto c'è il nuovo cassone della crosetto e mi sembra che sulla new holland ci sia il camion iveco eccolo qua no siamo ancora 68 per cento ancora c'è tempo allora vi avevo detto un'altra roba raga se vi ricordate avevamo preso i cavalli lo scorso episodio oggi dobbiamo andarli a mettere la paglia vi avevo detto che lo avremmo fatto oggi infatti oggi lo facciamo ho preso questo span di paglia dal recinto delle delle mucche l'ho spostato di qua per dargli ovviamente la paglia ma mi sa che qui paglia posto va bene e oggi ovviamente raga andiamo anche a trinciare insieme al buon collega collega se hai finito raggiungimi sul bossini che iniziamo la trinciatura qua del vai partiti ok raga magari aumento un pelino la velocità direi che sia anche il caso così ci sbrighiamo un po più rapidamente cerchiamo di fare il più presto possibile sta sta raccolta raga così almeno ci terminiamo almeno questa roba qua occhio che rallento magari è meglio se guidi tu la trincia beh sì forse è meglio che guidi tu la trincia va così almeno io riesco più fare manovre è che è una barra effettivamente un po' un po' larghina eh un po' overkill proprio eh lo so hai ragione sembra zucchero comunque eh non dico niente ma sembra zucchero è vero è vero è vero sembra zucchero è vero è vero è vero ma questo potrebbe essere anche non so un easter egg eh per probabili prossime semine eh 100 perfetto bom fermati lì questo qua adesso lo mandiamo verso scarico silo farm e nel frattempo ci andiamo a occupare degli altri operari allora tu mi scarichi le trebbie io vado a scaricare il cassone da carico la paglia sicuramente esatto pienissimi raga qua siamo veramente stracolmi guardate ancora quanta paglia dobbiamo raccogliere più compreso anche il campo 5 perché mica è finita qua abbiamo ancora il campo 5 da raccogliere quindi a proposito raga io mi sono dimenticato di dirvi una cosa il campo 8 l'ho scoperto per off camera nello scorso episodio tra lo scorso e questo episodio il campo 8 è campo a erba quindi io cosa ho pensato nella mia testa genialissima ci andiamo a falciare tutto il campo 8 prima di tirarlo giù perché ovviamente il campo 8 diventerà campo coltivabile però prima di tirarlo giù mi vado a falciare tutto vado a fare fieno così lo vado a portare i cavalli ok raga scarichiamo un pochettino di questa paglia da fare biomassa giusto un pochettino giusto un pochettino siamo già a 550.000 litri ancora non abbiamo finito allora qua rimettiamo a lavoro l'operaio perfetto qua è partito bene ok raga ripartiti con la trinciatura del mais così almeno ci terminiamo sto campetto adesso la trebbia l'abbiamo un pochettino calmata un po' controllata era imbizzarrita veramente prima ok raga ultimo pezzettino adesso questo qua ovviamente lo rimando a casa perché ci interrompiamo un secondino con la trinciatura del mais la riprendiamo verso metà gameplay perché voglio andare un attimino intanto questa qua va la mettere sul campo 16 io questo lo riporto a casa voglio andare raga a partire con la come si chiama la falciatura del campo insomma ok raga eccoci arrivati al bellissimo campo 8 guardate che bella estensione di praticello che abbiamo ovviamente raga quello che ne esce ne esce non sono stato a dargli ovviamente né fertilizzante né calceviva non è arato non è nulla però vediamo quello che ne esce ne esce ovviamente insomma ok ho creato il lavoro in campo ho generato il lavoro in campo raga adesso lo mettiamo ovviamente su primo punto avvia il percorso e qua intanto lo facciamo ovviamente lavorare ok vedete che infatti di quantità ne sta uscendo poco in campo ma comunque chi se ne frega insomma come viene viene quello che ne esce ne esce mi va tutto bene perfetto intanto qua lasciamolo andare nel frattempo che lui va vado a controllare un attimino lui beh qua ancora al 60% ha voglia prima che si riempie ancora ci vorrà un po' di tempo vai e altro scarico nel frattempo che qua scarichiamo vediamo se le tre abbiamo bisogno di un pelino di riparazione lei si sicuramente lei no voglio vedere però le lame che è la parte più importante si un pochettino tutte quante allora me le riparo tutte poi a proposito a proposito di prodotto vediamo un attimino come stiamo messi con il riso a proposito di prezzo 746 però non vedo nulla in fase di crescita non lo so se potrebbe andar bene oppure no aspetterei ancora sinceramente perché mi sembra che ancora sia in un momento di stallo per il momento ok allora raga prendiamo un attimino il lamborghini adesso però prima sistemiamo le uova magari prendiamo il lamborghini e andiamo a metterlo magari con un operaio a a rieggiare il campo quello lì 4 e anzi quasi quasi vediamo un attimino se c'è qualcos'altro da arare c'è qualcosa da arare il campo 10 il campo 4 in realtà no però comunque dobbiamo farlo lo stesso il campo 4 perché c'è cotone ed è appassito però prima di andare a vedere già che ci sono facciamo visita un attimino no valore ph buono per quanto riguarda il ph devo dire siamo abbastanza in buona quindi mettiamo magari solamente la rieggiatore va ok allora rieggiatore alla mano facciamo campo 4 intanto spediamolo verso il campo 4 poi mi vado a prendere il lui fermo il percorso andiamo a scaricarlo mamma mia quanta paglia ne sta uscendo veramente collega troppa allora c'è la trebbia che ha finito la new holland la new holland ha finito beh in realtà non penso che abbiamo altro da fare in realtà però che beh ha finito per modo di dire si se riesci magari senza senza fare con togliendo la paglia o fai spandimento ampio sto già facendo ecco elimina magari quelle quelle testate lì che ha che ha tralasciato allora adesso prendiamo un attimino il lamborghini che è super mega zozzo prendiamo il corn mash che è qua dentro quindi vai corn mash prendiamo e lo andiamo a scaricare nella nostra bellissima eccolo qua ok raga nuovo scarico qua sulla trebbia a riso ora mai anche qui sul campo 5 non ne rimane proprio troppo di tempo prima di terminare speriamo di terminare in fretta perché non ce la faccio più già con sto riso per un po mi sa che non lo tratteremo più eh raga allora raga io non mi ero ricordato ma off camera avevo creato due percorsini con il cursplay per lo scarico delle trebbia adesso non mi ricordo mi sembra che li avevo testati ed andavano bene però io adesso li testo nuovamente qua in gameplay per vedere se vanno bene così meno si arrangiano anche un pochettino da soli almeno io e il collega ci possiamo andare a occupare della della trinciatura sul campo 16 mamma mia ma quanta roba ha tralasciato sto sto come si chiama sto operaio tutto pieno di piantine veramente sembra un prato fiorito ok raga allora abbiamo terminato questo mandiamo la scarico silo farm abbiamo terminato raga la vendita no scusate la raccolta qui abbiamo il percorso la raccolta qua sul campo ora in teoria c'è qualcuno che sta slittando andiamo a dare un'occhiatina va allora so che non è molto realistico però ormai ho mandato il camion verso il campo 5 quindi scarichiamo così la nostra bella avena così finalmente possiamo mettere via la trebbia perché tanto questa trebbia qui oramai non ci serve più fino a prossima raccolta la mettiamo via la facciamo un bel po riposare che penso a che riposare abbiamo un campo 6 da raccogliere raga che riposare che riposare e a questo punto dato che il campo 8 lo stiamo facendo a fieno io direi che il campo 6 ad erba se si può ma mi pare di sì se non mi sbaglio si possa mettere sul dentro al bunker per fare se non mi sbaglio compost eventualmente se non fosse così mi pare che si possa mettere nel bunker per fare insilato quindi facciamo a via percorso ovviamente andando dal punto primo vediamo un po se mi fa la cosa si l'andana perfetto ok e qua raccogli niente dobbiamo andare a riprendere a questo punto allora il cassone con con l'iveco allora raga mando direttamente al campo il volta fieno con direttamente anche già il ranghinatore così in un'unica volta abbiamo già tutti gli attrezzi laggiù allora campo 8 tu intanto vai al campo 8 nel frattempo andiamo a vedere un pochettino dimmi dimmi tutto il camion dove stava andando il camion dobbiamo rimandarlo al campo 5 no scusa al campo 5 voglio dire al campo al campo 6 6 al 6 perché ha bisogno di no al 6 per la erba medica ok perfetto adesso lui si è portato l'autista quindi in teoria mi sembra che possano farcela insieme speriamo bene ma qui abbiamo ma questo che ci fa qua scusate ferma il percorso no gli ho fatto fare non ci credo ragazzi ho fatto fare il come si dice il percorso senza la lavorazione che roba non ci credo ok vediamo se parte adesso perfetto adesso si che parte ora è giusto giusto bene nel frattempo è arrivato quello del campo 8 che però non riesco ad arrivarci allora campo 8 sali sul veicolo vediamo un po questo lo possiamo tranquillamente anche staccare e prendiamo il volta fieno e iniziamo a farlo voltare ovviamente poi laggiù vedo già il landini no landini voglio dire lamborghini così almeno facciamo anche a rieggiare il campo 4 ok buttiamo a lavorare anche lui raga li facciamo fare ok vedo già che fa si fieno ok mi sta facendo il bel fienetto raga poi subito dietro gli andiamo a mettere vediamo se abbiamo magari un altro operaio e lo andiamo a mettere se no attendiamo che questo magari finisca nel frattempo raga è arrivato anche questo il collega nel frattempo lascia e entra dal server come fosse acqua fresca bene nel frattempo che lui rientra raga noi intanto generiamo il lavoro in campo qui sul campo 4 ok raga posizione da combattimento per quanto riguarda il lamborghini così va bello bello spedito e rapido va bene intanto lui va qui abbiamo fieno poi dovremo venire solamente a ranghinarlo qua vedo il signorino ce la fai a scaricare o non ce la fai ok allora abbiamo il percorso di nuovo vediamo se adesso se la cava un pelino meglio speriamo comunque qua campo 5 abbiamo praticamente finito raga è che succede qua ci pensi tu che succede sì sì che ce la facciamo certo che ce la facciamo allora raga niente iniziamo a questo punto a scaricare questa roba qua nel frattempo che gli altri operai li vedo abbastanza in forma ok raga per il momento il carico e mezzo che avevamo fatto sul campo 17 l'abbiamo scaricato adesso questo io lo rimando al campo magari 16 vai al campo 16 così questo quando arriva lo ripartiamo insomma con la raccolta qui intanto sali sul veicolo ha finito bene 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 così intanto possiamo sfruttare anche la imballatrice ah però potevo attaccarla dietro l'imballatrice non ci ho pensato facciamo una cosa allora vai a farm così scarichiamo la come si chiama qui la la volta fieno prendiamo l'imballatrice torniamo indietro il ranghinatore già ce l'abbiamo lì e partiamo con la lavorazione abbiamo finito qua raga è che bello ci fermo lì collega che arrivo ti vengo incontro ti vengo incontro benissimo raga benissimo 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 abbiamo terminato la splendida raccolta di riso su tutti i campi ottimo meraviglioso veramente oramai siamo veramente in buona si può partire prossimo episodio sicuramente con la lavorazione dei campi e probabilmente già con le prossime semine qua anche oramai abbiamo finito è quattro passatine raga e ci siamo mamma mia entro alla fine della puntata ci siamo finite praticamente tutte le trebiature ah eccolo qua collega è arrivato al campo 16 se ti interessa se vuoi partire porca miseria ok raga partiamo anche con la raccolta ma no mi sa di no forse non so se il collega ne sarà caricando sul sul cassone si 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 sta scaricando sta scaricando carico no 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 collega fermati 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 perché facciamo un'altra cosa metto l'operaio va metto l'operaio se riesci a guidare e bene se poi ti trovi in difficoltà nel guidare mi chiami e ti venga a dare una mano che io vado a sistemare lei cos'è che c'hai e beh giustamente lui no mi sa che non riesco a fare nell'una nell'altra cosa è no allora guarda vieni a vieni a guardare gli operai che lo faccio io eh no hai lasciato proprio il server che è diverso non è che hai proprio lasciato il server va bene raga dai lo continuo io perché il collega vedo che purtroppo in questo momento non è abbastanza abile per fare questa lavorazione qua adesso dove vai dove vai allora raga niente penso che questa raccolta me la terminerò io off camera come la raccolta della erba medica sul campo 6 così prossimo episodio abbiamo terminato tutte le raccolte a nostra disposizione vai ancora vai ancora vai ancora vai ancora bravo e detto ciò raga io direi che per questo episodio ovviamente possiamo fermarci qua vi ricordo in descrizione ovviamente raga tutti i miei link utili quindi se avete dubbio o curiosità di qualsiasi cosa trovate tutto in descrizione ovviamente trovate anche in descrizione il canale del buon collega mi raccomando passatevi a di scrivere detto ciò grazie figurati vi mando un grosso bacione un saluto al collega e ovviamente ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao ciao